La FIAB è la Federazione Italiana Amici della Bicicletta, quindi un'associazione a livello nazionale che in tantissime città d'Italia ha la propria rappresentanza. Noi nasciamo come Bici Insieme a Parma e poi aderiamo appunto alla FIAB, quindi siamo Parma Bici Insieme FIAB. Lo scorso inverno abbiamo fatto la campagna per il ciclista illuminato, tutti noi siamo ciclisti e siamo anche autisti di macchina e quindi sappiamo benissimo cosa vuol dire, vuol dire il rischio per tutti sulla strada. Quindi farsi vedere, a nessuno di noi verrebbe mai in mente di guidare una macchina con i fanali spenti, perché allora dobbiamo andare in bicicletta con i fanali spenti? Perché non essere capaci di difenderci e nello stesso tempo di appunto favorire anche il traffico automobilistico. Durante l'estate facciamo delle uscite serali che chiamiamo pedali nella notte, pedali nella notte vuol dire che usciamo, come vedete siamo giubbetto obbligatorio, casco che in questo momento non abbiamo ma c'è obbligatorio, le luci devono essere funzionanti perché così prescrive il codice della scala, strada e così bisogna essere visibili. Ci muoviamo in gruppo, insomma con molta attenzione, tutti illuminati, cioè sono poi le macchine che prendono paura perché quando ci vedono arrivare in gruppo con tante luci, cioè non è il ciclista isolato nella notte insomma, quindi la macchina è costretta anche un pochino a rallentare. Quello che noi vogliamo dire stasera è che si può girare tranquillamente per la città in bicicletta anche alla sera, si tratta di illuminarsi, poi qui c'è spazio alla fantasia, di tutto di più come vedete, ci sono luci fisse, luci intermittenti, ci sono fanali davanti, i caschi, adesso fanno i caschi anche con le lucine dietro. Ecco, l'importante è fondamentale il giobbetto, luci davanti e luci di dietro, dopodiché si può andare dappertutto.